Capitan Campagna, il Fossano in Serie D, ti chiedo emozioni, sensazioni in questo post-gara incredibile. Devo ancora capirlo, devo ancora rendermene conto. A inizio partita parlavamo di sogno, ce lo siamo regalati, non abbiamo mai mollato, è stato un po' quello che abbiamo fatto tutto durante l'anno, abbiamo mai mollato e oggi si è questo. È stato il coronamento di una stagione incredibile. Sì, incredibile. Ci mancava quel percorso che parlavamo sempre all'inizio, però questi ragazzi ci sono sempre allenati bene, non abbiamo mai mollato e quando non vuole mai il risultato è meglio. Cap, oggi che partita è stato? Un 3-0 netto, importante? Avevamo tanta fama, avevamo voglia di festeggiare, di regalare a questa gente una giornata indimenticabile e così sarà. Un Fossanese adottato adesso, questo stiamo avendo. Insomma, sono contento di stare qui, sono felicissimo dell'obiettivo che ho raggiunto, anche a livello mio personale, quindi vediamoci ora alla festa. E ti chiedo ancora dal capitano quali sensazioni ci sono in questa partita? Di tutto, c'è veramente di tutto, credimi. Forse c'è anche tanta stanchezza che non riesce ancora a festeggiare, non te ne conto, però stiamo qui. È un sogno, mi ho reso indimenticabile questo 16 giugno. Grazie. Grazie.